Folk Festival Winter Edition nell'attendostruttura Piazzale Calvario, presepe viventi a Valleluogo e nel centro storico dal 4 al 6 gennaio, tombolata il 29 dicembre a cura della Proloco nuovamente, e il consueto 50 anni insieme, le nozze d'oro degli arianesi nella Basilica Cattedrale il 30 dicembre. Sono solo alcuni degli eventi in programma ad Ariano Irpino per queste festività natalizie. L'amministrazione comunale con una conferenza stampa dà il via alle manifestazioni con l'intento di valorizzare il patrimonio locale, fatto di luoghi e persone capaci di accogliere partendo da tre fondamentali elementi, le attività produttive, la cultura e l'intrattenimento. Abbiamo avuto una partecipazione straordinaria, un periodo che va molto bene anche perché tante manifestazioni, la città di Ariano lo merita, i cittadini lo meritano, io credo che avremo veramente un bel Natale. Musei aperti, mostre espositive, spettacoli per bambini, musica itinerante, rallegreranno la città per accompagnare progressivamente la cittadinanza e i turisti alle prossime festività. Un cartellone ricco di iniziative anche con momenti culturali. Il Classico Ariano si prepara ad una nuova rassegna che interesserà come la scorsa stagione, l'intero arco dell'anno. Partiamo nel periodo natalizio con i classici tre concerti di Natale, il 26 dicembre, il concerto di Capodanno e il concerto dell'Epifania che si terrà il domenica 7 gennaio. Approfitto dell'occasione per ricordare a tutti che comunque questa sera nell'ambito della rassegna Musica e Castelli edita dal provincia di Avellino ci sarà uno straordinario concerto del maestro Uto Ugi accompagnato dal maestro Andrea Specchi al pianoforte, un appuntamento sicuramente che nessuno vorrà perdere per cui vi aspettiamo davvero numerosi questa sera. 19.30 in Cattedrale a Ariano Ilpino.